Anticipazioni Tempesta d'amore Martedì 20 agosto 2019 Jessica custodisce il segreto di Annabelle, che glielo ha confessato dopo aver bevuto, in preda all'agitazione e allo stress, qualche bicchiere di troppo. Cristo fa di tutto per conquistare Eva e soprattutto per trascorrere del tempo da solo con lei. La donna è vicinissima alla verità. Michael, nonostante le rassicurazioni di Andrè, è preoccupatissimo per suo figlio. Tina e Romy fanno di tutto per non essere cacciate dal loro appartamento e si battono con tutte le loro forze. Ragnar inganna entrambe. Robert vede il suo matrimonio sgretolarsi a poco a poco. Scriviti al nostro canale. Noi, nonostante le rassicurazioni di Andrè.